La filosofia del locale è praticamente di poter riuscire a capire quello che l'hospite vuole. Abbiamo pensato che possiamo avere molto più varianti di cocktail senza avere una lista e senza concentrarci in quella scatola. Il tema è composto da me, Alessandro Costantinesco, da lui, da Betto, dal mio collega Calì.